Ciao, sono Francesco Corosiniti, il capitano della nazionale di beach soccer. Vi aspettiamo dal 25 al 28 agosto qui a Catania, ai lì di La Playa, lì d'Azzurro. A sostenerci per questo importantissimo torneo, vogliamo vincere l'Europeo, abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno. Voi potete vincere un viaggio alle Bahamas col grande beach soccer per il Mondiale 2017. Vi aspettiamo numerosi, ciao!